Conosci i tuoi campioni su Sportiva, la scheda del tuo idolo. Bati lascia Firenze nel 2000 per realizzare il suo sogno di vincere qualcosa. Va alla Roma, che trascina il tricolore con le sue 20 reti. Gli altri due anni tra la capitale e l'Inter sono di completamento. Chiude con 184 gol in 308 partite in Serie A, uno dei migliori bomber di sempre. E con la nazionale argentina nessuno ha fatto meglio di lui. 56 centri in 78 presenze. Anche se ha vinto solo due Coppa America, Batistuta resterà sempre Batigol. Bati lascia Firenze nel 2000 per realizzare il suo obiettivo.